Buona giornata d'Alberto. Quando si incontrano quelle persone che hanno una particolare attenzione dei dettagli, una abilità nel riuscire ad unire gli elementi, è un vero piacere. Oggi vi mostro un'abitazione in pieno centro a San Mauro Pascoli, dove i proprietari sono riusciti a trasferire questa loro attitudine, questa loro abilità, in ogni dettaglio, in ogni stanza. Fortunata sarà la famiglia che la sceglierà come loro futura abitazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cogli la palla al balzo, non perdere questa occasione. Grazie a tutti.